Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo velocissimo video di Farming Simulator 19 perchè è tempo ragazzi finalmente di parlare anche di Farming Simulator 19 finalmente oggi 15 febbraio la Giants ha rilasciato un video un piccolo trailer dove fanno vedere appunto ovviamente tutto in computer grafica quindi non sarà effettivamente proprio la grafica che dopo avremo noi giocatori però può dare l'idea di come stanno progettando il gioco come vedete già da qui abbiamo un uomo, il contadino oppure la persona Mari F Marco 95 che è accompagnato anche dal suo cane quindi già da qui potremo capire che l'uomo potrà avere il suo cagnolino che lo segue nei vari movimenti, spostamenti, Mari quando si sale sul trattore sale anche lui insomma hanno fatto diciamo così un veloce ma un video di un minuto circa che basta andare qui sotto e potete guardarlo tranquillamente qui in mezzo praticamente scrivono che appunto anche quest'anno la serie di Farming ritorna con un motore grafico totalmente rivisitato offrendo appunto dettagli impressionanti e molte belle cose presenteranno tre mappe tra cui anche una rivisitazione della mappa sudamericana appunto aggiungendo anche i nuovi animali ci saranno nuovi animali tipo cavalli cosa avevo letto nuove culture aggiungeranno ancora delle altre delle altre culture aggiungeranno ancora dei marchi in teoria dovrebbe esserci anche il marchio John Deere mancava l'ultimo per far contento DVD e gli altri il Fennet l'avevamo già messo prima d'altronde Fennet chiudiamo la parentesi e niente dopo adesso ragazzi nei prossimi mesi aggiungeranno video aggiungeranno cose pian piano ve lo presenteranno e penso io per solito da fine settembre a primi di dicembre in quel periodo lì dovrebbe uscire il gioco dovrebbe uscire verso novembre e via così adesso è ancora molto molto presto per dire qualcosa anche perché ricordate computer grafica è sempre molto più bella molto più dettagliata di quello che poi è è il gioco stesso e niente che dire il video è di minutino neanche quindi al momento non c'è ancora tanto da dire comunque insomma speriamo in bene dovrebbero aver fatto un netto miglioramento quindi ragazzi preparatevi ordinate magari una scheda video buona ordinate qualche fate qualche upgrade al vostro computer perché sicuramente la grafica dovrebbe richiedere qualcosa in più dato anche l'aggiunta di poi di varie cose ci sarà anche per per PlayStation 4 Xbox One e ovviamente per il PC dove il gioco è più completo più libero e insomma si gioca meglio secondo me su computer che su console vabbè ragazzi niente non vi rubo altro tempo vi dico solo tenetevi pronti perché appunto qui ci possono essere novità da un giorno all'altro commentate iscrivetevi lasciate un bel like dite anche voi magari cosa ne pensate di questo piccolo assaggio intanto di questa qualcosina se poi qualcuno ha qualche novità qualche informazione in più scrive pure un commento che se poi è ben scritto e ben dettagliato magari lo copio con il vostro consenso in descrizione al video ciao a tutti e alla prossima ciao ciao